Sulla prima cosa, noi oggi ci siamo occupati di fissare le dimensioni, le linee e gli altri particolari del campo di gioco. Quali saranno gli schemi e la partita che si giocherà, questa è una cosa che inizierà ora all'interno del Comitato degli Esperti e poi invece in Parlamento da quando questo disegno di legge verrà approvato. Sulla seconda cosa ovviamente non ne abbiamo in nessun modo parlato perché non è argomento nemmeno indirettamente correlato con l'oggetto della deliberazione di oggi.